Nutcao è un'azienda che produce creme spalmabili a base di nocciole e cacao per tutta la grande distribuzione del mondo. Siamo leader nel settore delle private label e abbiamo anche una linea di produzione per l'industria e per il mondo pasticcerie. Per poter supportare la crescita aziendale abbiamo deciso tre anni fa di ampliare lo stabilimento produttivo e aumentare la capacità di stock del prodotto finito costruendo un magazzino automatico. In Jungeric abbiamo trovato un partner sicuramente affidabile che ci ha seguito sia nelle fasi di progettazione che di realizzazione e poi di avviamento. Il magazzino automatico è operativo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 perché quelli sono i nostri ritmi produttivi. Avevamo quindi la necessità di avere un magazzino sempre costantemente in funzione. I trasoli elevatori autosterzanti hanno la possibilità di lavorare non solo nella loro area di competenza ma in caso di manutenzione di uno dei trasoli elevatori possono entrare nell'area di competenza del trasoli elevatori in manutenzione e quindi continuare ad estrarre le pedane come se lavorassero tra i trasoli elevatori. Il magazzino automatico ci permette grazie alla temperatura controllata di 12 gradi e a diverse altezze che è in grado di gestire di stabilizzare il prodotto nella maniera corretta. Il prodotto finito una volta confezionato non viene fasciato per garantire la cristallizzazione del prodotto. Le pedane una volta estratte dal magazzino automatico vengono incappucciate da una macchina speciale che ci permette di risparmiare due terzi del film. Le pedane vengono quindi rese molto stabili e poi viaggiano verso le baie di spedizione per poi essere caricate e spedite. Ringrazio sicuramente tutti i tecnici di Ungairic che hanno lavorato al progetto che ci sono stati molto vicini nelle fasi per noi più complicate che sono state quelle della progettazione e della realizzazione.